Asia Argento e Fabrizio Corona stanno affascinando tutti con la loro storia d'amore Ma qualcuno mette in dubbio tutto. Ecco quale sarebbe la verità.La storia d'amore tra Asia Argento e Fabrizio Corona è ancora una volta al centro del pettegolezzo Nelle ultime ore circola in reta la notizia circa la possibilità che la loro storia sia stata costruita a tavolino Nelle scorse settimane molti avevano ipotizzato che i due si fossero messi d'accordo per rendere pubblica la loro presunta storia d'amore con lo scopo di farsi un po' di pubblicità Fabrizio e la verità sulla storia con Asia.Un ex amico di Fabrizio Corona sostiene che le foto scattate alla nuova coppia siano finte, ed in rete scoppiamo altre indiscrezioni? Che confermerebbero i dubbi dei fan Si parla infatti di un accordo tra i due, che prevedrebbe un compenso di 100.000 euro e determinati scatti messe a disposizione delle riviste paganti Tale notizia è stata lanciata da Alberto Dandoli di D'Agospia che sostiene che la loro è una relazione montata ad arte Un'operazione commerciale che mira principalmente a dare visibilità alla coppia.Un n-accordo segreto tra i due È facilmente ipotizzabile che Asia e Fabrizio abbiano stipulato tale accordo perché, qualche mese prima, erano stati al centro delle polemiche Rispettivamente per lo scandalo delle molestie, e per la discussione di Fabrizio con la conduttrice del grande fratello VIP, Ilari Blasi nella quale era emerso il presunto tradimento di Francesco Totti con la showgiri Flavia Vento Tali eventi avrebbero in qualche modo rovinato l'immagine di questi due VIP.I due non hanno ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito, e i fan, sono curiosi di sapere quale sia la verità La cosa certa è che i due sono stati al centro del gossip nelle ultime settimane e sicuramente questo ha consentito loro un ritorno in termini economici La cosa certa è che i due sono stati al centro delle molestie, e i due sono stati al centro del gossip